Non si può escludere al momento che l'obiettivo fossero le scorte di vaccini anti-covid stoccate nel deposito farmaceutico di via Leucosia a Salerno, ma per errore i ladri hanno portato via quelli di fascia pediatrica. Il fatto è stato scoperto questa mattina e chiaramente si cerca ora di capire chi abbia tentato il colpo maldestramente fallito per l'incompetenza dei ladri. Ma al di là di questo, quanto accaduto, fa crescere l'allarme che già era stato lanciato anche nei giorni scorsi e fa pensare che possa esistere anche un mercato nero dei vaccini che di certo, per la loro esiguità, al momento sono un bene più che prezioso. Certo, nessuno potrà dare un certificato di immunità, il famoso passaporto, a chi si fa somministrare una dose che proviene dal mercato nero, ma per poter comunque ottenere in ogni caso in qualunque modo l'immunità al temuto Covid-19, anche senza certificazione, ci potrebbe essere qualcuno disposto a correre il rischio. Tutto questo induce anche a pensare che qualcuno abbia immaginato di mettere su un sistema parallelo di somministrazione dei vaccini. Un'ipotesi inquietante perché fa presumere che esista non solo chi acquista illegalmente l'immunità a nero, ma anche chi smercia ed inocula poi i vaccini. Quello tentato a Salerno sarebbe, se confermato l'obiettivo dei vaccini anti-Covid, uno dei primi tentativi fatti in Italia. Il primo fu a Fiumicino a fine gennaio, l'altro più recente il 20 marzo scorso a Torta Nova in Puglia.